Ma sapevate quante finali consecutive ha vinto Simone Inzaghi la Coppa Italia e la sua competizione? Uno spettacolo stupendo, una finale bellissima tra due squadre che meritatamente hanno raggiunto le varie finali europee. Gioco offensivo, alta intensità e pochi tempi morti, Fiorentina Inter è stato un vero spot per il calcio italiano. I nerazzurri per il secondo anno consecutivo vincono Coppa Italia e Supercoppa, quattro trofei in due anni a Simone Inzaghi a cui è sfuggito solo lo scudetto. Nelle partite a gara secca il tecnico piacentino è davvero infallibile, ha una percentuale di vittorie altissima in carriera, da allenatore ne ha persa soltanto una. Quella di Coppa Italia persa 2-0 contro la Juventus era la stagione 2016-2017, la seconda di Inzaghi da allenatore della prima squadra. Dopo quella sconfitta solo vittorie, sono infatti sette le finali consecutive in cui Inzaghi trionfa. La Coppa Italia e la sua competizione anche perché l'ha vinta ben tre volte da calciatore e due volte da allenatore della Lazio Primavera.